Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, fate attenzione, vegliate perché non sapete quando è il momento. E' come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai Suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Parola del Signore. Queste parole di Gesù che ci introducono nell'Avvento, questo periodo così speciale, questo periodo così prezioso per entrare spiritualmente nel mistero del Natale, queste parole ci ricordano la parabola dei talenti. Gesù parte per un viaggio, è stato con noi duemila anni fa anche fisicamente, è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, però al tempo stesso è tornato al Padre e ha lasciato a noi, nelle nostre mani, un'eredità, l'eredità più preziosa. Ha lasciato a noi l'amministrazione dei beni più preziosi, ossia i sacramenti, la Chiesa, il suo corpo mistico per la quale lui è morto ed è risorto, per la quale lui si è sacrificato morendo in croce. Ecco, e quindi noi siamo adesso responsabili, siamo gli amministratori fedeli o no, delle cose di Dio in terra. facciamo da ponte. Allora Gesù ci ha dato i doni, i talenti e ci ha rassicurato che tornerà, ma quando tornerà come si troverà? La parabola dei talenti, Dio, Dio nostro Padre, è la banca, pensate un po' una banca. Gesù disse al servo malvagio, avresti dovuto mettere i miei talenti in banca affinché al mio ritorno io potevo ricevere interessi, ma tu hai avuto paura, sei stato pigro e hai nascosto, hai sotterrato il talento per paura e quindi non hai prodotto frutto. hai ucciso la vita dentro te stesso. Questo ha fatto il servo malvagio, pigro, che aveva paura. Ecco, la paura è un campanello d'allarme. Se c'è paura significa che dobbiamo ravvederci, che la paura non viene da Dio. Il timore sì, ma la paura è un campanello d'allarme. Diversa era la paura di Gesù nel Gezzemani, che lì andava incontro al più crudele dei supplizi. Ma la paura di cui parlo io adesso è la paura che è conseguenza del peccato, della mancanza di grazia. Quando non viviamo nella grazia di Dio, allora subentra la paura e la fede viene messa da parte. Tanto la pandemia, mi ricordo, qui si diceva faith over fear, fede al di sopra della paura. Allora questo noi vogliamo fare nostro, la fede. Dio, al di sopra di ogni paura umana, il timore di Dio che si trasforma in amore per Dio. Non abbiamo paura dell'inferno, del diavolo. Lui ha paura di noi, che abbiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, però abbiamo il timore di Dio, quale dono dello Spirito Santo, che si trasforma in amore. Faccio la volontà di Dio, voglio fare la volontà di Dio, ho il desiderio perché amo a Dio, perché voglio andare in paradiso. Dio, non ho paura, Dio non è un Padre cattivo, ma anzi è un Padre buono, che ci richiama, ci richiama alla purezza, alla conversione, al silenzio, alla preghiera e quindi come dicevano gli Apostoli, Signore accresci la nostra fede, cresci la nostra fede. Se avessimo fede come un granello di senape potremmo spostare le montagne, in questo caso la montagna è il peccato che ci perseguita. I nostri peccati che commettiamo regolarmente, ci sono le montagne che sembrano insormontabili, ma con la perseveranza, con la fede, con la preghiera, il servizio e quindi, l'aiuto di Dio, saremo in grado di spostare anche queste montagne dei nostri peccati. Allora questo chiediamo a Gesù durante questo periodo così importante dell'Avvento, affinché Gesù, bambino, possa nascere e rinascere nei nostri cuori e lo possiamo incontrare nei poveri, nei più bisognosi, negli invisibili, invisibili, coloro i quali nessuno vede. Lì vive Gesù specialmente. Allora vogliamo vegliare, Gesù ci dice verrà come un ladro nella notte e dobbiamo vivere nella grazia di Dio affinché saremo pronti a comparire davanti al giudice giusto, giudice misericordioso, ma anche giusto. La misericordia è più importante, ha vinto grazie al sacrificio di Cristo sulla giustizia, ma Gesù è anche un giudice giusto. Allora non sappiamo quando verrà, per cui non dobbiamo essere addormentati, dobbiamo essere stolti, non dobbiamo essere stolti come le vergini stolte, ma dobbiamo mantenere accesa la lampada, la perseveranza, l'olio, le lampade delle vergini sagge, come sappiamo è la fede, la speranza, la carità, la perseveranza fino al momento in cui Dio ci chiamerà e quindi il mondo finirà per noi, Dio ci chiama e quindi già ci troveremo davanti a Lui. Il mondo finisce individualmente o totalmente, quando lo decide Lui, lo sa Lui, forse dipende da noi. Allora preghiamo oggi dicendo mostraci Signore la Tua misericordia e donaci la Tua salvezza. Sia lodato Gesù e Maria, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.